Buon masa Stiamo giocando Urgot Top, siamo contro Eimer Ginger proprio Mi sa che partirà con l'item dei soldi Ragazzi, sapete, cioè L'item dei soldi è per sempre L'item dei soldi, parliamoci chiaro Fuck this, Blitz Ah, è una donna ragazzi, secondo me PixGamer Secondo me è una donna, easy È una donna Come faccio a donna 50 euro? Beh, è molto facile quello Ok, ok Di cover, mate Esatto, abbiamo due TP, è fatta, l'ha detto Sistezza, meno, ok, c'è un po' di spam Se sono 50 euro Ora lo esce il capezzolo, sì, infatti sotto lo stream E... come ben sapete Aspettate che si è baggato l'hollo Ok E... come ben sapete ragazzi Qua sotto lo stream c'è scritto Ogni 50 euro interi Le esco Qui vuol dire che se mi donate 50 euro tutti in un colpo Io proprio le esco così Le mostro a tutto il mondo di Twitch Di... Let's win this with communication, concentration, team work Oddio Stolaf Ma ho paura Ho sinceramente paura di Stolaf ragazzi Cosa mi pensi della figa? Non è bella quanto la brocca Mi dispiace Quando siete brocca sessuale ragazzi C'è solo una cosa che conta davvero La brocca Fino ancora fai stream Non ho idea Sinceramente penso di fare questo game Poi il game con i sub E poi vorrei anche andare a mangiare L'idea è quella Mi sembra un ottimo piano Quello là sta mezzo pushando Io per adesso Boh mi limito a farmare Tanto non Non so quanto vi posso dire quello là Quindi farmiamo Cazzo ho detto Oh che cazzo fai eh Coglione Ma se ti facessi così Vado ma ci rientra in range Tieni No Sacco di merda No faccio schifo Preso Ci ho rimesso un sacco Però ho preso il carretto L'importante era quello Perdonate ragazzi Ma non sono main urgot Però è un bel champ da giocare Quindi lo gioco Ma Tipo Ok Purtroppo lui c'ha troppi minion E' quello che caga il cazzo Perché è il cancer di inger E contro il cancer di inger C'è poco da fare Allora Devemo omitere lo stun No non me l'ha tirato Pensavo di sì sinceramente No l'ho missato Ho più minion di lui Il che è buono Oh da lì Che massacro di torrette Mannaggia lui Ah sì Dimmelo in faccia Dimmelo in faccia eh Non me lo dici in faccia Perché Tanto Sai che le prendi È normalissimo Normalissimo Sono ancora attive le torrette Ma come mai Ah Fuck Brutta mossa questa Dai ma sono un sacco di me Sono un peto Come ho fatto a missarlo Mannaggia Vabbè Abbiamo la goccia Andiamo Non so se Urgot Si gioca ancora con la goccia Però Io ce la gioco Sinceramente Tipo qua Che se no mi stunna E mi piazza le torrette E mi caga la minchia Non si sa mai Ovviamente ragazzi Urgot con i biscotti Perché insomma Un vero Urgot Non può non giocare Senza biscotti Cioè C'ho detto Adesso Quelli li lo massacra Adesso Quelli li te le distruggo Perché mi hanno rotto i coglioni Guardalo Guardalo Sono super concentrato Ragazzi Perché Non contro un champ È un bel po' bastardo Devo dire Dai ma come mi ha beccato Ma che cazzo Lo prendo Si Niente troppo lontano no 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 non mi piace non mi piace mo faccio il 6 ehehehe ehehe predictable guardalo guardalo vorrebbe mamma mia quanto gli piacerebbe prendermi ma invece di prendermi lo prende direttamente shh concentrazione ragazzi ma lo uccidiamo siete pronti ho miscliccato e spell ho premuto la w ho tirato la in avanti senza motivo logico in realtà e io te le spacco di cu le tue torrette di merda va bene oh ah è guardato qua eh è guardato qua io la spacco quanto può essere una maialata a passare di qua scudo ehehehe ok dai così faremo un altro po' e almeno il carretto lo voglio prendere ok preso il carretto leh sei più furioso di me no che sto triardando io voglio ucciderlo uno che gioca in merdinger in top perchè ho tirato una Q slugty non streama più ah non streama ah non ho idea ah non sta parlando con me ogni tanto leggo purtroppo ragazzi cosa possiamo comprare lo shin mi fa comodo servirebbe magic resist in realtà ma no dai compriamo lo shin poi vediamo poi ci pensiamo uno spam di Q tac 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 ah hai piccato urgot top eh sembra anche workare lo mettete un bel follow ragazzi per questo urgot top siamo anche in quasi 400 io direi che urgot top merita mmm la messa al maiale la messa al maiale eh la control eh ci vuole magic resist cazzo dovevo farmi vabbè che lo shin mi dà un bel po' di danno è veramente tanto mamma mia io te le magno le torrette non ho ancora capito oh wait wait perchè lui è all'otto io no? perchè è arrivato Olaf prima a smezzarmi il minion è vero comunque fa troppo danno quel cesso lì di Emmerdinger solo che non è facile beccarlo di perchè tanto lui attacca da lontanissimo quindi non esageriamo queste cose super predictabili per favore urgot work arrivamos vorrò ugrose anche sapro ragazzi è il top non so se maxarmi la w la e la seconda comunque dire la e la e sicuramente è meglio guardate che maiale Eh non è facile da beccare un champ che attacca da così lontano O meglio un champ che nemmeno attacca lui minion Ne attacca le torrette Eh devo imparare ad usare la W meglio Perché se usassi meglio la W Parrei i suoi danni e il che sarebbe worth Però come capite non sono proprio main work Ma che ma che Oh ma c'è a Matti Eh vabbè vabbè ragazzi Ma che cazzo l'aveva vista basta Non male che Olaf Basta Mo fa un giretto e more Che strane cose che capitano Uh vado Più biscotti Messa sul culo Urgot ma son gusti Ma come ma è bellissimo No scherzo non ne idea Io ragazzi Qualcuno pende sul serio che io giochi Urgot Ragazzi io lo sto giocando adesso Ma non sono main Urgot Non lo so giocare Anche perché altrimenti non farei così schifo Ci avete pensato Io te li distruggo tutte Faccia di cula Che palle al 9 Ma quanto Sono una busta io che mi faccio prendere però Vediamo di sta concentrati dai Ok ci siamo ragazzi Aiuto al blu Ah ok per Veigar No pensavo ci fosse B Credo che Crank sei nel main E sono Plat 2 Con il main Mo sto giocando questo perché Volo un po' Provare qualche champ nuovo Tipo Urgot Che non è male in realtà Anzi È buono Io come faccio ad arrivare da te Basta Vattene Eh vedi Devo usare lo scudo Io mi dimentico Ult Dead knot Ecco Cosa raggiungo Non c'ho manco il flash Per raggiungerlo Sono handicappato Oh Non c'è una torretta lì dentro Mi sembrava di sì Ma sta succedendo in botta Ma stanno distruggendo tutto in botta Eh vedi Blitzkram Ma in realtà è 3-1 Non so cosa sia successo Cioè me l'ha messo dopo Ma sei serio Mi ha messo lo scudo dopo Che l'avevo cliccato prima 50 volte Ah Cioè ti bug Vabbè dai vado back Ho già capito Lascia stare Ah ma più Ho 20 di farmi In più di lui Buono buono Dai Adesso sarei magic resist Però Magic resist Non so sinceramente Cosa farmi Forse la mo Sì è meglio È buona È buona Ma che da anche Quella redaction Ce la facciamo È sempre usato per sede Da silver in particolare Considera che quando io ero silver Eravamo ancora in season 4 Quindi Stiamo parlando di Qualche meta fa Diciamo così Usavo Giocavo top Giocavo Jax Pantheon E Darius Oppure giocavo in giungla Giocavo via Shaco Shaco L'ho sempre tenuto È una farma ottima Ma la farma sì Ma poi è anche facile Farmare con un argot In realtà Perché grazie alla Q Gli pingo l'SS Ma non penso che Un merdinger Possa Muoversi Dalla propria lane Se giochi un champ Come merdinger Non le conosci L'altra lane Che non sia la tua Probabilmente Ma da che palle Questi razzi De merda Mi scoccio Che lui è sempre in lane Non fa fatica Comunque Se startava di zone Era finita Ma comunque Se la fa adesso Adesso Stiamo un po' Concentrati Eh Ci mancava Soltanto che mi prendessela Lì Ma vai vai Io te le spacco Minchia Mamma mia Che busta Scusate se parlo poco Ragazzi Ma sono alquanto Concentrato No mi sto chiudendo No mi sto chiudendo Eh vabbè Ma sono un sacco Di merda Però Perché lui Di nuovo full vita Mi sono perso Sto passaggio In realtà Vabbè C'ho il teleport Io gli pingo Che c'ho 25% Di vite No ma Non t'ha visto Tranquillo Tranquillo Non è guardato Proprio Tranquillo Voglio proprio Sapere Cosa vuol fare Ok Io qua Esplodo L'ho presa io Aiuto Che cazzo Che sacco di merda Quella torretta del cazzo Lì Porca puttana C'è proprio Boh Dei got drake E got cazzo nel culo Dopo quella engage lì Ecco Visto cosa Dei got cosa Sei primo in lolita Grande fieric Eh 450 Boh Ragazzi Per chi non mi conoscesse Ricordo che Io sono uno youtuber Prima di uno Prima di essere streamer Siamo quasi a 12.000 iscritti Su youtube E Zara è diventato Il top laner Velgar Passione botanico Vai E Io c'ho paura Dalla sua W Che non si capisce mai Quando ti becca o no Perché Ammazza un po' di minion Poi trapassa Ah si Ah si Vieni di me in faccia Va bene Va bene Vieni 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 Ah Mo cazzo in gulo L'hai beccato te Però io prendo Veramente troppi danni Che Ma anche siamo matti Palle Opa la Mori torretta De merda Cioè alla fine è tutto Un cercare di sopravvivere Da quel figlio di puttana Questa partita Cioè boh Purtroppo finchè non la mo Faccio un po' così Punzecchio Punzecchio le torrette E basta Questo è ciò che faccio Perché è i merdinger E non si può fare altro Grande bonobo fiero L'hai piato Ufficialmente Bonobo fiero ragazzi L'ha piato C'è niente da fare Vai vai Ti dedicherò la prossima kill Semmai ne farò un'altra In questa partita Ok Oh fuck Uh Voleva Ma che cazzo Bene Ma ci penso io Le tue torrette Tranquillo Ah quello non ha capito Che io mo che arrivo da lui Via Ti ho dedicato sta kill C'è tipo un campo di battaglia Nel momento in cui tu vuoi passare Tra le torrette dei merdinger Che succede di tutto e di più Ma che cazzo stai Ma botta all'inibito Ma che cazzo succede Se non segui Faire che non sai nessuno Bravo Ah Urgot è forte Se soltanto Sapessi usarlo Le avrei dato il cazzo Quello lì Cioè guardate Già Ho 20 di Ho dato 20 di farm A Amerdinger A Amerdinger Con Urgot Il mio farm in questo momento È ottimo Quanto come è messa Sta merda qua Devo iniziare A tenermi soldi Per questo Ma sì dai Teniamoci i soldi Killing spree Oh Attenzione Ottimo Posso tornare in top Per giocare con Fieric Tutti diventano subscriber Dopo di questo ragazzi Si gioca con i fan Quanti siamo in stream La madonna 430 Fare un banner che Da tankings 400 Ah il banner È vero E il banner In effetti sarebbe ottimo Prima però volevo Finirmi questo Non so se La cosa migliore Io ho detto Ragazzi io non gioco Urgot Sto sperimentando Uso lo smurf apposta Cioè guardate quanto push Ah beh che aveva una wave gigante Lui qua Ma indovina chi ti dà il cazzo Mori Va là Eh Troppo Emerdinger Emerdinger Comunque ce l'hanno tutti con lui Notate che i miei teammates Nonostante la botta sia Con le pezze a culo Vengono comunque dai Merdinger Perché È lui Il cancer Della partita Capito Se sei un melee Non puoi vincere Questo è vero Keeper homing 2-3 top E' quello che stavo dicendo Vedete Perché ce l'hanno con lui Perché ha preso i Merdinger Va bene Io scappo di qua Quasi Ah era 3-2 Nemmeno tanto Pensavo di più sinceramente Il calcio Se lo vendo Ci arriva i soldi Sì che ci arriva i soldi Meno che non prendo una torre No Ah ce lo vendiamo E ci prendiamo questo Niente vedete Ha finito il lavoro Sono appena entrato Che succede Ma sto provando Durgot Abbiamo dato un po' Il cazzo A Merdinger Grazie un po' All'aiuto del mio team Poi è arrivata via E mi ha Planato nel culo È andata più o meno così Se non è buono Giocheresti con me Pure se sono bronzo 1 Certo Non è un cazzo Cioè tanto Sono normal Quindi Cioè chiunque vuole giocare con me Che fa il sub Può giocare Ovviamente Se siete in 50 Adesso no Perché di sub in totale Ce ne sono Neanche 30 Quindi Più di tanti Non siete però In caso della precedenza Quelli che non hanno giocato La volta prima La volta prima Mi ricordo Hanno giocato soltanto Serpente seduto E Zwarte Si chiamava quell'altro Se non sbaglio Ecco tipo Cosa stanno facendo Perché si sono chiusi da soli A certe domande Non ci sarà mai risposta Ragazzi Piatelo Piatelo Grazie Giacomo Maniaco Per il sub Dopo ovviamente Vi chiederò I nick Alla fine Merdinger Se l'è data Vero? Si si Pinga 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 di più Pinga di più Avete visto Dove cazzo erano Ma come si fanno A lamentare Ecco ho preso la torre Vedi quindi silenzio Boom Shottato bitch Ecco non cagate il cazzo Per favore Rompete le palle Con chi fa schifo Ah questa kill La dedico a Giacomo Maniaco Che appena Oh io schianto Con quella No 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 Via 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 Questa kill La dedico a Giacomo Maniaco Che appena Ha messo il follo Qua serve un po' di armor Secondo me Me and Olaf Is solo Cosa sta facendo Quello Ma guarda Per me puoi morirci Tranquillamente Cioè Ma proprio Di sfregio Andiamo un po' A fare qualcosa Nell'altro lì Ovviamente ragazzi Ricordo di Iscrivervi al canale Youtube Tra un po' Iniziare la nuova Serie di League of Legends La mia serie su LOL È diventata È una figata La serie su LOL Che tutti conoscono C'è la scalata È figa E Flash quella lì Non ce l'ha Quindi Oh 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 Ma che cazzo Ma non c'è più il team Attenzione Partita Ma arriva Arriva Sindra Sta a vedere Oh Che cazzo vuoi te Quindi fai una custom Solo con i sub Se non ci sono Abbastanza sub Invito a random Ma non volevo Fare custom Lo farei draft Mi diverso Di più Sinceramente Report Vaif Vaifgar Ah perché 2-8 Go play Versus a cancer champ Dice Vaigar You are You are Vagar OMG Sono scritto Già al tuo canale Fairy Cancut Beh anche a quell'altro Immagino Spero anche a quell'altro Non soltanto al secondo canale Vedo che Il tuo team Ha tutto Una sua meccanica di gioco Rispetto a te Il mio team ragazzi Arrivo Non lasciatemi da solo Hello Ok Arrivederci Enjoy the one shot Sì Dica Uno V5 Double kill VP bro Eh Grazie ragazzi Certo Non è da tutti Provare Urgot in ranked Per la prima volta Però Ecco Cosa stanno facendo ragazzi È Andonio Andonio È lui Ecco Non si sa cosa stiamo facendo Nessuno lo sa Alla Haki No no Non lo sa manco loro Cosa stanno facendo Boh Valla a capire Preferi cancut Per League of Legends Mi sono iscritto Beh perché Il primo canale Per cos'è Ultimamente Sta uscendo soltanto LOL Anche sul primo Uncut Molta più spesso Che ti dà danni Tipo Ridotti Tipo Alistar Ok Eh ma il fatto Che lì non sa proprio Che utilità Anche perché Potremmo cancellarmela Se non sbaglio Cioè Con Blitzcrank Non ho idea Ripeto Io Non lo so giocare Urgot Però mi ci sto abituando Abbastanza bene Deve dire Ma questa Non ce l'ho Ah una passiva L'han cambiata Una volta si attivava Ma Devo vedere che cazzo Si fa adesso Perché non ho idea Ma devo leggere un po' L'effetto di questa nuova Malamune qua Cos'hanno cambiato ragazzi 3% Come rimane Ah una passiva adesso Non bisogna più Tenerla attiva Tipo prima Che l'attivavi La disattivavi No non mi grabbare Please Eh si vedi Me la Vabbè ragazzi E' incredibile Quanto faccia schifo Il mio team Nerf Dis Syndra One click Dunn Smid Guardate che casino Che ha combinato Sono oggetto Degli AP Si attiva Ok Gioca gara in full mana Ma io ho giocato gara in full AP Non meritavo questa cosa Non la meritavo E' schifo Ok con questo account ragazzi Sono gold a 3 Così ho un account per ogni lega Bronzo Silver Gold E' platino Oh Ottimo Intungo